Ha visto di nuovo Sephiroth. Qui c'è da avere paura. Oddio, guarda, c'è una distesa intera di Mako. E vabbè, sarebbe live stream in realtà, però. Vi porto al mio villaggio. Stanno cercando Sancta? Diciamo che noi stiamo cercando una materia. Ah, no, loro stanno cercando la Black Materia. Perché sì nel trailer si vedeva. Loro stanno cercando la Black Materia. Lui ora glielo dice. Gli dice la Black Materia. Dice dovete riportarla qui, una roba del genere. Vero, non ci avevo pensato più a sto particolare. Ecco perché Cloud ha visto Sephiroth. E'capa. Si, io ho servito a più a Settacare. Ma, io mi ricordo di Certo me. È un citoyen. E'caparmiente. Mi, io, io ho lavorato di Certo. Certo? Quindi io ho raccoglio. Sertacare una stessia. E poi, io sono la stessa della Fata. Certo è un essere oleo. Minchia Minchia, la fossata Eris Dici, ti scendi da loro ma non sei... Ma non sei la... Uh! Oh! Oh, oddio! Quindi quello che noi nel remake abbiamo visto era Biggs però... Non c'è nessuno... Cioè, Zack è un errore dei Numen? Perché i Numen stavano viaggiando e hanno deviato il proiettile mentre stavano viaggiando... Certo, l'immagine è incredibile... Sarebbe incredibile sta cosa... Tipo che Zack è stato un imprevisto... Cioè... Quindi sono definitivamente morti loro lì... Cioè, Biggs lo sta confermando ufficialmente... Cioè... 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 Perché... Lui praticamente era lì... E poi dopodiché è stato ripristinato tutto... E si è sentito tipo il suono del rewind anche da Zack... Cioè... Sì, verrà, c'è... Questa è... 안� unmute Ves... See... Quindi... Volta a andare bene... Ne vai faccio così... Grazie a tutti! questo è il bigs che abbiamo incontrato nel remake e ha conosciuto cloud ma non è lo stesso cloud che però c'è adesso oh mio dio cioè esistono due cloud se esistono due cloud sicuramente il cloud che stiamo comandando noi adesso diventerà cattivo oppure è come dico io che il cloud intossicato qui dal mago si unisce alla reunion veramente che c'è la scena di claudio del cappuccio nana vangai no kai mizu a shindano gisa qg shindano o boh mi sugo su vacca niva i canali nishu no i cari o omo ishiro seo shins e avalanche memba boshu che vuoi chiusura io vai giù c'è la squadra mante dai tada 6 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, porca puttana, lo conosci? Esa, ecco. Cioè, questo è il Biggs del remake che ha conosciuto Cloud del remake. Però il Cloud del remake ora sta viaggiando insieme agli altri e il Cloud che è insieme a Zack non è lo stesso Cloud che conosci tu. Cioè, che conosce lui. Questa roba è incredibile. Cioè... No, secondo me. Lui si riferisce al fatto che Cloud ne racconterà di ogni perché lui, avendo conosciuto Cloud del remake, per l'appunto ha conosciuto quel Cloud spaccone che abbiamo visto all'inizio del remake. Che non era così, diciamo, affabile come sta diventando adesso con gli altri, ma era praticamente l'ex soldier, quello che aveva visto quello, quello che aveva visto quello. Cioè, Cloud praticamente ha raccontato durante le missioni con l'Avalanche tutte le sue esperienze da soldier. Quindi Biggs ha questo ricordo di Cloud, cioè conosce il Cloud praticamente dell'inizio del remake. Madonna, sta roba è incredibile. Cioè, esistono... Cioè, è come se praticamente si fosse venuto a creare un casino creato praticamente dai Numen. No, neanche io trovo un esistenza... cioè, non trovo una logicità nell'esistenza di due Cloud. Cioè, non potrebbero neanche coesistere due Cloud. Ecco, la cecchide... Cioè? Cioè, un'esistenza? Ehm? Non c'è proprio quella! Tu sei che... Come così, si può vedere un pozz'oltre in questo tipo di posteriore di un cibo di polvere? Ma è vero, mi sembra che si è perduta così. Ahahahah! Lo so, io andrò quindi... Ho, 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 ho... Ho, 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 ho... Ho, 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 ho... Ho, 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 ho... Ho, 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 ho... Ah, stati pensando VIXX! Ci sono qualcosa che vediamo. Chiunque il mondo è finito? Ci sono qualcosa che è diverso. Cosa cosa è vero? Perché tutti ci sono tutte queste cose? Non è tutto questo. Ci vediamo. Ci vediamo. a finire a finire che come ho detto io che ci saranno due cloud uno cattivo e uno è uno buono il cloud il cloud del remake ovvero il cloud che stiamo comandando noi secondo me si unisce a sephiroth potrebbe unirsi a sephiroth e uccidere eris praticamente alla fine di tutto le cose sono due no va per me cloud diventa cattivo uno dei due cloud diventa cattiva basta ormai mi sto convincendo di sta roba perché allora o il cloud del remake quello che stiamo comandando ora viene plagiato definitivamente da sephiroth e si unisce a sephiroth oppure il cloud questo che insieme a zack intossicato dalla maco praticamente diventa una sorta di burattino di diventa il bura un burattino sempre al solito come come le altre cavie da laboratorio e si unisce alla reunion infatti c'è la scena quella con il cappuccio dove lui proprio dice esplicitamente reunion si un'ocche Grazie a tutti. Grazie a tutti. E lo testimonio il fatto che qui non c'è praticamente più il verde. Cloud è rimasto ancora lì, vegetale. Anche Eris. E Aris? Il collegamento tramite il live stream. Il collegamento tramite il live stream. No no, questo cloud che stiamo usando ha i ricordi di Zack. E' Genova che al momento sta confondendo le acque, ma lui ce li ha. Perché in più occasioni ha detto anche le cose che avrebbe detto Zack, ha fatto le cose che ha fatto Zack. Ha soltanto Genova che delle volte interferisce. Su questo sono sicuro. Asta della Sapienza. Anche per Eris questa qua. Così sappiamo dove continuare e continuiamo con una bella porzione di trama interessante la prossima volta. Perché questa comunque è tutta una parte nuova fondamentalmente, inedita. Non c'è mai stata nell'originale. Quindi sono abbastanza curioso di sapere che relazione hanno questi Gui con la Black Materia. Perché comunque poi loro ci chiederanno di cercare la Black Materia e di riportargliela. Quindi... Quindi... E gli strani che il vostro pianeta rispinge. E gli strani che il vostro pianeta non può essere riuscita. Non può essere riuscita a live stream. E questo... non è vero? Non è vero! Non è vero che non è vero. In questo modo, non è vero più difficile. i cui sono in cerca della materia quindi praticamente loro sono dei non morti vengono definiti come dei non morti perché sono estranei al pianeta e quindi non possono ricongiungersi al live stream e di conseguenza vagano per l'eternità wow certo perché loro hanno le armi che mettono status pietra sono fastidiosi col fatto che mettono pietra destinate a non essere accettate abbiamo cercato sollievo la materia del sollievo è ciò che cerchiamo cioè per loro la black materia è il sollievo perché distruggono la terra e quindi e quindi sono a posto quindi o noi viviamo oppure muoiono tutti abbastanza tossici questi gui che cazzo ah mica mi hanno una bomba mia ma ho sciottato che sono stronzi questi eh bel terrino tattico che bella la host tra l'altro sembra un canto gregoriano quindi la materia del sollievo supremo e quella invece pensa alla yuji materia oddio vedi il nulla tornare al nulla è tutto ciò che chiediamo quindi loro vogliono veramente distruggere la terra alla materia alla materia più pure affidata alla nostra preghiera la black materia perché meteor distruggerà il pianeta e quindi loro vogliono distruggere il pianeta per poter tornare al nulla per loro ha senso per noi no ovviamente visto le statue che pregano perché loro hanno proprio un credo su questa cosa offerte preghiere è proprio una religione a tutti gli effetti è una religione a tutti gli effetti eccolo esatto che la nostra preghiera ha tinto di nero la materia più pura ecco cloud sta avendo la visione della black materia o della reunion forse eccola la nostra preghiera ha tinto di nero la materia 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 e pensare che nell'originale sei tu e gliela consegni a sephiroth la materia 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 è vero dove elimina rimani prima Ah ma c'è questo? Vaffanculo quanti siete? Madonna ma si mai evitano tutto? Ma ma cazzo è possibile che evitano tutto? Ah guarda! Ok. Così siamo a posto. C'è pazzeschi! Tra i nemici più forti del gioco! Gli incontri casuali più forti del gioco! Ecco ora qua parte il mega spiegone. Quello che si è visto nel trailer. C'è un'imperato! C'è un'imperato! C'è un'imperato! C'è un'imperato! Altare della gemma! C'è un'imperato! C'è un'imperato! C'è un'imperato! C'è un'imperato! C'è un'imperato! C'è un'imperato! C'è un'imperata! Diquera! C'è un'imperata! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.